Ciao a tutti ragazzi, qui è un po' di saluto, oggi sono tornati in un nuovo video oggi è nuovamente il video di sci, io non sono a casa ma sono in un bosco che ho appena finito di registrare il video per martedì cioè quindi voi il video l'avete già visto e io comunque sto registrando il video di sci quindi siccome la batteria scarica godetevi il video su di sci, bella ragà Grazie a tutti 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 Grazie a tutti